Il prossimo lunedì sonnerà la prima campanella ma una settimana da questa data ci sarà già un'interruzione. Sì ci sarà un'interruzione perché nelle scuole primarie sede di seggio le lezioni verranno interrotte per quasi sette giorni ed è proprio per questo che noi abbiamo pubblicato sulla pagina del nostro comitato salviamo le menze scolastiche di Arezzo una lettera aperta per raccogliere quello che era il malcontento dei genitori e per chiedere un aiuto per fare un appello alle istituzioni cittadine. In particolare al sindaco e all'assessore alla scuola. Cosa significa per voi l'interruzione di una settimana in caso di ballottaggio di due settimane ma soprattutto cosa significa per i bambini? Significa sconvolgere una routine che si è interrotta sei mesi fa e che a singhiozzo stanno cercando di recuperare. Significa perdere nuovamente il contatto con i compagni e con le insegnanti. Significa non avere nessun punto di riferimento stabile e vedere, sgretolare quelle che erano le loro certezze. I bambini sono stati grandi dimenticati di questo lockdown, sono stati mesi chiusi in casa e l'amministrazione doveva comunque dare un segnale forte, doveva far sì e doveva sopperire anche quelle che sono state magari le mancanze a livello centrale del fatto di aver organizzato le lezioni durante l'apertura delle scuole. Aveva la possibilità di sopperire appunto a questa mancanza trovando delle sedie alternative e comunque noi abbiamo anche proposto strutture diverse, tipo strutture movibili all'esterno delle scuole proprio per far sì che i bambini potessero continuare ad andare a scuola. Il fatto che la sanificazione per due giorni di elezione comporti una settimana di chiusura delle scuole è un elemento di non poco conto. Noi vogliamo che i bambini ritornino ad essere il centro di una politica che creda in loro.